Ed eccomi qua con Olga e Eric di Eagle Rider, importantissimo stand ma prima domanda chi è Eric, chi è Eric? So I'm international business development for Eagle Rider and we love our partners this is a very important market, Italy's awesome, EICMEC what more could you ask for? So I come out to support Olga and her team and our partners as well Chiedo Olga, una veloce traduzione È il nostro coordinatore internazionale di tutti gli uffici Eagle Rider nel mondo, è un'azienda americana basata in Los Angeles Noi siamo qui perché questa è l'esposizione globale del mondo della motocicletta e dei viaggi in moto E quindi Eric che coordina tutto il mondo di Eagle Rider è qui con noi a EICMEC Lui ovviamente è quello che realizza i sogni di tutti i motociclisti del mondo per andare ovviamente in moto in un viaggio spettacolare che non è solo in Nord America Perché Eagle Rider è presente in molteplici paesi tra i quali per esempio gli Emirati Arabi E questa era proprio la domanda che volevo farvi, quali sono i vostri progetti in Italia e nel mondo? Perché comunque vi muovete dappertutto Noi ci muoviamo dappertutto, il progetto più grande è che abbiamo adesso l'Australia, abbiamo Singapore, abbiamo gli Emirati Arabi e abbiamo il Messico Queste sono le location internazionali che sono aperte per un'esperienza di viaggi in moto Poi ovviamente abbiamo anche altri paesi dove distribuiamo il nostro marchio e le nostre moto Ma questi sono i paesi strong che sono saliti a bordo con noi e viaggiano con noi C'è anche un'agenzia che vorremmo nominare sempre che viaggia con voi o anzi meglio dire voi date loro le moto per viaggiare? Sì, neanche a far l'opposta è un'agenzia direi leader nel mercato e altrimenti i viaggi sono dei veronesi però sono presenti in tutta Italia Dalle Alpi oserei dire fino alla Sicilia, sono degli specialisti, sono proprio autorizzati col marchio Eagle Rider E inventano ogni giorno viaggi nuovi, viaggi per tutti i gusti, per tutte le tasche, per tutti i chilometri e soprattutto per tutte le voglie diverse di moto Noi vicino qui siamo vicino a una Indian, è la nostra ultima creatura Eagle Rider è l'unico marchio internazionale che consente di scoprire l'America a cavallo di una India Noi quest'anno abbiamo tre modelli e dall'anno prossimo abbiamo tutti i modelli nuovi di Indian E altrimenti i viaggi è un partner italiano che propone al mercato italiano questo operator Benissimo, ti ringrazio, ultima cosa, mi ha fatto nascere una grande curiosità, come farò a contattarvi? Noi siamo a Milano, siamo General Sales Agent in Italia, siamo disponibili con un sito www.igorrider.it Grazie Grazie Grazie